Presentiamo in anteprima una mostra che avrebbe dovuto aprirsi al pubblico in occasione del 25 aprile ma che le condizioni della pandemia hanno costretto a sospendere e presentiamo oggi in video in attesa che il pubblico possa accedere alla mostra fisicamente. Abbiamo conosciuto Félix De Cavero il 25 aprile scorso in occasione della Staffetta della Memoria, una mostra online proposta dal Museo Fuso della Resistenza e dall'Istituto Storico della Resistenza di Torino. Quella straordinaria iniziativa era curata direttamente dai cittadini e dalle cittadine che avevano portato i propri oggetti e le proprie memorie personali legati alla Resistenza, alla Seconda Guerra Mondiale e alla liberazione. Tra i contributi allora offerti con un breve video c'era quello di Paola De Cavero che ha raccontato attraverso fotografie e documenti la storia del padre, artista, fotografo, partigiano. Félix De Cavero giunge con la sua divisione a Torino nel 28 di aprile, documenta la sequenza che viene presentata in mostra con l'ingresso della sua formazione in Torino e poi tre momenti particolari, cioè i funerali, grandi funerali dei primi caduti partigiani del 30 aprile 1945, la successiva sfilata conclusiva della liberazione il 6 maggio e poi il momento della smobilitazione dove la divisione ha come sede di comando Villa Lovera sulla collina torinese. Da una parte è l'opera, ripeto, di un artista che usa la macchina fotografica e non improvvisa perché aveva già iniziato prima della guerra ad usare questo mezzo espressivo nella sua attività di consulente e di promotore pubblicitario e grafico in un'importante azienda milanese. A conclusione di questa mostra si è messo un ritratto fotografico di mio padre, Félix, ed è questo ritratto in rosso dove lui tiene in mano la sua tavolozza con uno sguardo un po' ironico che amica quasi a un richiamo al cielo, come per dire sono quasi pronto per là di là, chiamatemi. E in effetti poco dopo ci ha lasciato. Sulla sua ultima dimora, che raccoglie le sue spoglie, c'è inciso una semplice frase, creando e ricreando è salito nello spazio immenso dell'eternità. Quello che vorrei aggiungere è che Félix ha vissuto anche in vita uno spazio immenso, quello dell'arte, quello dell'amore, dell'amore universale e della fratellanza. E tutte le sue scelte assolutamente da spirito libero e da purezza di cuore si sono svolte in questo sentiero. E anche le foto che quindi lui ha scattato nel suo impegno per combattere l'oppressione e quant'altro ne sono una testimonianza. L'occhio con cui usa questo mezzo fotografico è comunque quello dell'artista. E la scelta che abbiamo fatto, questo è il secondo punto, come monitori della mostra, è stata quella di presentare l'insieme delle immagini come se fosse una grande provinatura esposta al pubblico. Questo perché permette di cogliere in modo preciso l'occhio dell'artista. Questo è il cuore e il senso della mostra. Quindi non solo l'aspetto documentario, ma l'aspetto di un artista che si ritrova in condizioni eccezionali, con una partecipazione sentita alla resistenza, diretta alla resistenza, a documentare ciò che vede. Ma lo documenta, come si vede da molte immagini, attraverso la sua sensibilità di pittore. Grazie. Grazie. Grazie.